Benvenuti a Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la 7. Sta arrivando aria ancora più fredda sull'Italia, avremo una settimana con temperature quasi invernali per una massa d'aria gelida che dalla Russia sta raggiungendo l'Europa centrale e come vedete coinvolgerà anche l'Italia, soprattutto le regioni settentrionali dove nei prossimi giorni vedremo anche qualche fiocchetto di neve fino a quote davvero molto basse. Entriamo più nel dettaglio e per la giornata di domani prevediamo intanto pioggia abbastanza diffusa al sud anche sotto forma di temporale, quindi precipitazioni localmente intense e poi neve su Alpi e Prealpi fino a quote basse anche 400-500 metri di quota. Ma guardate, martedì il limite delle nevicate scenderà ulteriormente, in Piemonte e anche in Emilia-Romagna potremo avere qualche fiocco fin quasi in pianura. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.